Ciao a tutti ragazzi sono GTA TV in questo nuovo video vi parlerò di come avrò un account moddato gratis ovviamente modderò io quindi per prima cosa dovrete iscrivermi al mio canale, invitare 15 amici ad iscriversi e ovviamente come potete vedere dal video potrò controllare quindi andando semplicemente su iscritti per vedere tutto quanto e mi dovrete mandare dello screenshot o su Facebook o su Instagram che trovate nelle informazioni del canale e ovviamente dovrete rimanere attivi sul canale e commentare ogni video nuovo e lasciare un mi piace ovviamente se non commenterei dei video nuovi io non vi farò l'account questo qua ovvio e comunque questa cosa è fatta solamente per chi non ha un account moddato di GTA e non vuole spendere soldi quindi chi ha già un account moddato è inutile a questa cosa e e e e e